salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi per la rubrica primi passi all'uncinetto ci dedicheremo alla tecnica tapestry crochet è una tecnica come vedete io ho fatto un campioncino con i cuori si possono realizzare comunque disegni e forme geometriche utilizzando duo più fili e lavorandoli contemporaneamente prima di presentarvi i materiali e iniziare la nostra lavorazione vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video e in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tiktok dove cercherò di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto abbiamo bisogno di uno schema in questo caso io ho utilizzato il cuoricino di cotone però potete realizzarlo fare i vostri lavori in lana cordino cotone tutti i materiali che volete in questo caso io lavorerò questo cotone con uncinetto due e mezzo e poi avrò bisogno un paio di forbici ora iniziamo la lavorazione con due gomitoli tenete conto che se volete utilizzare o c'è un disegno che comunque ha bisogno di più colori potete inserire direttamente i colori che vi servono quindi si lavora a più di due fili noi in questo caso lavoreremo con due prendiamo l'uncinetto e iniziamo la lavorazione con il turchese seguendo questo schema tenete conto che i quadretti equivalgono alle maglie basse quindi per ogni quadretto dobbiamo poi realizzare una maglia bassa io in questo caso ho deciso di farlo doppio perché era piccolino 11 catenelle quindi realizzerò 22 catenelle e lavorerò facendo il doppio dello schema quindi 5 una maglia bassa di un altro colore 5 poi riprendo 5 una maglia bassa e 5 quindi raddoppio lo schema che ho in questo caso ci sono 11 catenelle 11 più 11 perché lo facciamo doppio sono 22 dobbiamo realizzare 22 catenelle quindi facciamo il cappietto che non contiamo e lo stringiamo e lavoriamo 22 catenelle fatte le nostre 22 catenelle aggiungiamo una catenella per voltare il lavoro quindi per rialzarci e inseriamo direttamente l'altro filo quindi tenete conto che ora vi spiegherò anche come non attorcigliare i due gomitoli quindi li vedete une da una parte une dall'altro sistemiamo guardate la godina qui dell'altro colore in questo caso io sto utilizzando un blu e entriamo nel primo punto lavorandoci anche il filo inserito quindi farò un giro completo una riga completa di maglie basse una maglia bassa su ogni catenella che ho a disposizione quindi in tutto 22 maglie basse come vedete o il filo dietro quello la blu che me lo lavoro con la lavorazione delle maglie basse arrivati qui alla fine facciamo una catenella e voltiamo il lavoro guardate il filo blu in questo caso lo giro insieme alla lavorazione e me lo porto dietro io farò prima di iniziare la lavorazione quindi il disegno farò un altro un'altra riga di maglie basse quindi entro nel primo punto sempre portandomi dietro l'altro colore e faccio un'altra riga di maglie basse lavorate le nostre due righe ci realziamo con una catenella e voltiamo il lavoro qui iniziamo a seguire il nostro schema come vedete qui ci sono 1 2 3 4 e 5 maglie di un colore quindi iniziamo sempre portandoci dietro il blu e lavoriamo la prima la seconda la terza la quarta maglia bassa quando arriviamo alla quinta quindi la maglia prima del colore nuovo la lavoriamo a metà quindi entriamo e lasciamo così questo filo lo lasciamo prendiamo l'altro guardate allineiamo quello la turchese prendiamo il blu e ci tiriamo il filo lasciamo il blu da una parte prendiamo il turchese il blu lo facciamo passare nella parte sotto e ci chiudiamo col turchese così qui ora dobbiamo continuare col turchese quindi fare altre cinque maglie basse 1 2 3 4 e 5 abbiamo detto che facciamo in modo speculare il doppio schema quindi è come se ricominciamo da qua e facciamo altre cinque maglie basse 1 2 3 4 e come abbiamo fatto nelle nella prima parte la quinta maglia quindi abbiamo lavorato le nostre la quinta maglia che qui non la chiudiamo lasciamo il turchese guardate lo mettiamo allineato prendiamo il blu così e ci chiudiamo col blu la maglia successiva che la sesta dobbiamo fare una sola maglia bassa prendiamo la maglia lasciamo il blu lo facciamo passare nella parte sotto guardate e chiudiamo col turchese e continuiamo ci dobbiamo ritrovare ora cinque maglie basse 2 3 4 e nell'ultima maglia 5 e abbiamo fatto il primo giro dell'inserimento del colore ci rialziamo con una catenella ci portiamo dietro sempre il colore guardate lo giriamo giriamo anche il filo dell'altro colore e qui ora abbiamo guardate avendo fatto così noi perché il cuore ora ce lo ritroviamo tutte con le stesse righe se no dovremmo ripartire da qui a tornare e fare giri di andate e ritorno perché se il disegno è diverso diciamo che ci sono maglie diverse da questa parte da quella quindi noi abbiamo fatto la riga così ora torniamo dobbiamo fare quattro maglie basse del colore turchese quindi facciamo la prima 1 2 3 la quarta che è quella prima appunto del colore la facciamo entriamo prendiamo il filo lasciamo il turchese da questa parte ci prendiamo il blu e chiudiamo col blu entriamo nel punto successivo e qui dobbiamo lavorare tre maglie basse col blu 1 2 nella terza che poi abbiamo il cambio colore la lavoriamo a metà lasciamo il blu prendiamo il turchese il blu lo facciamo passare nella parte sotto e chiudiamo col turchese continuiamo la lavorazione portandoci il blu dietro e in questo caso facendo quattro maglie basse 1 2 3 e 4 ripetiamo ora in modo speculare il cuoricino dall'altra parte quindi quattro maglie basse 2 3 nella quarta lavoriamo a metà qua c'è il turchese lo lasciamo lo allineano alla lavorazione prendiamo il blu e chiudiamo e ci lavoriamo tre maglie basse col blu 1 2 però nella terza prima del cambio colore dobbiamo lavorare col turchese quindi prendiamo il turchese il blu lo facciamo passare nella parte sotto così e ci chiudiamo col turchese e qui ci restano da lavorare quattro maglie basse 2 3 e 4 e questo è il secondo giro ora dobbiamo andare avanti in questo modo quindi la tecnica è questa è semplicissima facciamo un'altra riga insieme e poi possiamo continuare da soli 3 maglie basse e il cambio colore con 5 maglie basse quindi iniziamo 1 2 la terza maglia che è prima del cambio colore la lasciamo a metà lasciamo il turchese lo allineiamo e ci prendiamo il blu che qui sotto e chiudiamo col blu entriamo nella maglia seguente e lavoriamo 1 2 sempre portandoci dietro il turchese 3 4 e 5 però la quinta è prima del cambio colore quindi lasciamo il blu lo facciamo passare nella parte sotto e ci chiudiamo col turchese e continuiamo col turchese le maglie centrali che in questo caso sono 3 più 36 allora 3 del primo del primo cuoricino e 3 dell'altro 1 2 e 3 dell'altro che dobbiamo chiudere lasciamo il turchese e chiudiamo con il blu facendo in modo speculare quello che abbiamo fatto 3 4 e 5 la quinta lasciamo il blu lo facciamo passare nella parte sotto e chiudiamo col turchese e qui ci rimangono 3 maglie basse 2 e 3 guardate continuiamo la nostra lavorazione come da schema questo schema io l'ho trovato su internet ma voi ne troverete tantissimi altri quindi vi potete sbizzarrire anche a fare qualche progetto diverso io vi volevo proprio spiegare la tecnica e i punti come comunque seguirli completiamo il cuoricino io qui all'inizio ho fatto due righe di maglie basse e terminerò con due righe di maglie basse e ci rivediamo alla fine ecco il progetto finito guardate che carino i cuoricini da una parte e dall'altra seguendo questo schema questo e tantissimi altri schemi li trovate su internet quindi vi potete sbizzarrire a fare tantissimi progetti quali appunto capi di abbigliamento borse oggetti vari quindi rivestimenti di oggetti io ho in cantiere un progettino con questa tecnica però non vi voglio svelare niente però voi sapete che quando faccio un primi passi solitamente vi porto anche un progetto eseguito con le varie tecniche che poi faremo appunto in questa scuola di uncinetto spero che il video vi sia piaciuto e vi torni utile se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao